Continuiamo subito col secondo video, come avete potuto intuire ho utilizzato più dei miei 70 ticket ovviamente me l'ero fatto scappare tramite un piccolo spoiler dicendovi che appunto avrei fatto due video pool però ragazzi non è finita qua so che il video potrebbe sembrarvi lungo, so che effettivamente tutti questi ticket da vedere insieme possono risultare pesanti me ne rendo assolutissimamente conto però vi posso garantire che ci sono dei colpi di scena assurdi veramente io non voglio dirvi nulla magari mi prenderò qualche insulto in live stasera, magari no, chi lo sa io vi invito a guardare il video, scoprite benissimo, potrete scoprire benissimo quello che è successo io non voglio assolutamente interrompere il flusso con il quale sicuramente dovrete vedere questi due video per cui vi lascio assolutamente ai pool e ci vediamo stasera perché stasera veramente faremo un sacco un sacco di cose quindi vi aspetto in live, ci vediamo stasera 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.